È senza dubbio la grande star delle adunate degli alpini. Per ore tutti lo attendono. Quanta emozione nel vederlo passare fiero davanti al palco delle autorità e rendere onore al labaro nazionale. Momenti indimenticabili e toccanti per Cristiano Dal Pozzo, classe 1913, reduce dell'Abissinia. L'alpino più famoso d'Italia quest'anno non sarà all'Aquila. Un viaggio troppo lungo, la salute è ancora buona, ma gli anni sono 101 ed è meglio evitare una trasferta così pesante. Io mi piaceva andare all'Aquila anche quest'anno. Ma l'età non consente. La sua volontà era quella di andare, però un po' la lontananza dell'Aquila, i disagi del viaggio e un po' i familiari che sono un po' preoccupati che gli succeda qualcosa, però lui partirebbe già domani mattina. Da moltissimi anni Matteo Dal Pozzo, parente di Cristiano, lo accompagna alle adunate insieme hanno toccato tantissime città. Ho passato tutta l'Italia, io. Sono stato Trieste, sono stato Torino, sono stato Milano, sono stato Raggio Emilia, ma tutte le città italiane. Pur di andare all'Aquila, Cristiano sarebbe stato disposto persino a salire su di un elicottero, tanta è la voglia di tornare a sfilare all'adunata. E se a quella nazionale non ci sarà, alla Triveneta del 14 giugno certo non potrà mancare. Io eravamo, se stavo bene, perché io oggi sono così, domani posso anche ammalarmi, perché ti dico la verità, che io queste mani, questa, non so scrivere. Prima, due anni fa, scrivevo lettere, adesso non scrivo più niente. Lo lasciamo a Roana, nella casa di riposo dove vive da un anno. Dall'altopiano in Reduce Dal Pozzo saluta gli alpini che si trovano all'Aquila. Saluto tutti questi miei amici, i miei compagni, perché là ci sono anche i miei compagni.